Il Vangelo di oggi troviamo un'immagine veramente potente dal punto di vista pedagogico e dal punto di vista didattico. È l'immagine del buon pastore che Gesù applica a se stesso distinguendo se stesso, il buon pastore, dal ladro, dal brigante, da colui che non passa per la porta principale per accostarsi alle pecore, cioè alle persone che gli sono affidate. Ma vorrei svolgere questo tipo di immagine in modo esplicitamente pedagogico. Il buon pastore può rappresentare quasi un archetipo dell'insegnante che si prende cura dei propri allievi, perché da un lato il buon pastore li guida, fa da guida e li guida verso pascoli dove potranno ben nutrirsi. Fuori di metafora, il pascolo dove ci si può ben nutrire è il pascolo della sapienza, il pascolo delle scienze, i pascoli dove l'intelligenza, ma non solo l'intelligenza, può nutrirsi di cibo sostanzioso. Ma il buon pastore è metafora del buon insegnante anche perché, come dice il Vangelo di oggi, conosce le pecore una per una. Ecco, in pedagogia si è riflettuto a lungo anche nell'ambito della pedagogia della scuola sul tema della personalizzazione educativa, sul tema della personalizzazione didattica. Un tema che ha avuto alterne fortune nel dibattito pedagogico contemporaneo, ma che rimane particolarmente interessante. Ecco che allora quest'immagine del buon pastore che conosce le pecore re una per una, le chiama per nome, è in grado di provvedere per ciascuna di esse ciò di cui più ha bisogno. Ecco, in questo senso dobbiamo valorizzare questo tipo di immagine e farne quasi esplodere anche tutte le potenzialità proprio per rilanciare in modo forte quella personalizzazione educativa, quella personalizzazione didattica che ha avuto un momento breve di fulgore nel dibattito pedagogico italiano, ma che può essere recuperato attraverso il riferimento a questo archetipo del buon pastore e in qualche modo reso presente nella vita, nel lavoro, nella prassi degli insegnanti, degli educatori di oggi.